Come facciamo ad aver fiducia di voi? Questa gente che comanda Vergognatevi Sozzoni Renzi, vergognate Berlusconi e compagnia bella Ma aggiungi Quando ci saranno le elezioni? 5 stelle, via! Le elezioni dove? Quando ci saranno le elezioni? Ci sono anche le regionali Le regionali a maggio Niente, voto sempre 5 stelle e me ne freghi niente Perché quelli, non ci stanno Quelli che fa sempre che si battono Questi fanno qua 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 E mi dicono Ma sai Berlusconi è andata A me che cazzo me ne freghi Che mi interessa a me Chi se ne frega A me mi interessano i fatti quotidiani I problemi dei cittadini Voi che state al governo Dovete risolvere i problemi dei cittadini Non di quelli che telequatrine Berlusconi ha chiuso con un 22% Il suo anno 2013 Più, capito? Quindi dei problemi di Berlusconi A me non me ne frega L'avete capito? Sì? È chiaro, abbastanza chiaro Questo è il prologo di Gianfranco Semproni In questo ammuso